Serietà e professionalità sono i nostri punti di forza. Cristalli Liquidi, leader nel settore della telefonia, servizi vocali, messaggistica e navigazione. Da Cristalli Liquidi troverai un vastissimo assortimento di telefoni cellulari di ultima generazione. Cristalli Liquidi, centro assistenza tecnica Team Wind e in via 20 settembre 9 Castro Villari. Telefono 0981 26 736 per comunicare oltre ogni limite. Si riprende con il calcio amatoriale giocato al Valerio, apre la giornata il Barça che ha la meglio contro la sgorbutica Red Bull. Due magistrali realizzazioni per archiviare la scomoda pratica e chiudere il cassetto della scrivania blaugrana. La prima è Di Capano che direttamente col piattone al volo insacca sotto la traversa. Poi ci pensa Orei Covelli che come il grande calciatore carioca in fuga per la vittoria compie un gesto atletico davvero spettacolare e colloca il pallone alle spalle di Ferrari per il definitivo 2-0. A seguire lo 0-0 tra bestione Bayer Leverkusen. Tuttavia i ragazzi di Mister De Sanso hanno davvero di che recriminare per le numerosissime palle goal sprecate davanti all'estremo difensore rosso-nero. Mister Stabile può tirare un sospiro di sollievo e festeggiare questo punto conquistato. Spettacolare e rocabolesca la vittoria della Dinamo Pollina e danni del Napole. Un botta e risposta che pende nel finale a favore dei viola di Mister Parrotta. Dinamo in vantaggio con Trocino, pareggia Laitano, raddoppio di Meignieri, nuovamente pari di Prantra. Decisiva la zampata di De Marco che regala vittoria e leadership alla Dinamo Pollino. Pari anche tra i Falc e gli All Blacks in quella che è l'ultima gara del sabato pomeriggio un 2-2 ricco di azioni e di emozioni. Cecchini per i Falc, i soliti francesi Lanza, Varcasia e Scaglione invece fanno la gioia di patron tedesco. Bisse il successo della prima giornata di questa seconda fase la sorprendente Etero Jeans, una vittoria netta contro il Besha Club che porta le firme di Capano, Grazia Di e Blotta. Per le Rodinelle vanno a segno invece spatola undicesimo centro stagionale ed una sfortunata deviazione dei gialli di Mister Capano. Scialbo noioso e orfano di emozioni e di azioni degne di note, lo 0-0 tra Bianchino e Emperor. Ancora sconfitta immeritatamente l'Olympiakos che dopo aver dominato il lungo e largo, divorato almeno 3 o 4 palle gol e non aver concesso alcuno spazio all'avversario, viene beffata all'ultimo dei tre minuti di recupero dalla rete di Miraglia nell'unicazione in area giallo-blu. Rete che regala la vittoria al Bayern Monaco che raccoglie il regale e va avanti a punteggio pieno. Chiude questa seconda tornata la vittoria della Red Devil, sei danni di un sanvito irriconoscibile e che perde la bussola non appena viene sostituito il suo faro di centrocampo. Ebbene, proprio con la sostituzione del primo cittadino di Castrovilla, il sindaco Lopolito, la squadra subisce la rete che condanna i bianco-verdi alla disfatta di la mensa. Il gol partita che rimette in carreggiata i ragazzi di Mister Di Leone. Questi risultati alla seconda giornata, Girone-Castrum, Barsa-Red Bull 2-0, 3-2 Dinamopolino-Napole 2-2, i Falchi-All Blacks 1-0, Bayern-Monaco-Olimpia così Girone-Villarum, Bestioni-Bayern-Leverkusen 0-0, 3-2 Etero-Gins-Brescia-Club 0-0 Bianchino-Emperor 1-0, Red Devil-San Vito. Questa è la classifica cannonieria. La prima giornata, Girone-Castrum, 18 reti per Covelli del Barça, 12 per Prantl del Napole, 10 per Didieco del Napole. Per il Girone-Villarum, 14 reti per Bartino del San Vito, 12 per Martino del Bayern-Leverkusen e 11 per Spatola del Brescia-Club. Questa è la classifica alla seconda giornata. Per il Girone-Castrum, Dinamopolino-Bayern-Monaco, 6 punti a 4 All Blacks, 3 Barsa, 2 Falchi a 1 Napole, e chiudono a 0 punti l'Olimpiacos, le contrade Red Bull. Per il Girone-Villarum, l'Etero-Gins apre con 6 punti, seguono Imperor 4, Red Devils 3, 2 punti per Bianchino e Bestioni, 1 per i Fornai e Bayer-Leverkusen, a 0 punti Brescia-Club e San Vito. Prossimo turno, terza giornata, Girone-Castrum, le contrade Olimpiacos, Dinamopolino e Falchi, Red Bull-Napole, Bayer-Monaco-Barsa. Terza giornata per il Girone-Villarum, i Fornai-San Vito, Red Devils, Brescia-Club, Imperor, Bestioni e Tero-Gins Bianchino.